Felipe Scolari ha detto addio alla nazionale brasiliana dopo la chiusura fallimentare dei mondiali. Con effetto immediato l'allenatore ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico. Il presidente della Federcalcio brasiliana Marine le ha accettate e ha ringraziato tutti, staff, giocatori e tifosi, per l'amore verso i colori verde-oro mostrato nella Coppa del Mondo. Umiliante è stata la sconfitta per 7-1 per mano della Germania, poi salita sul podio. Leonardo è dato come favorito per diventare il nuovo coordinatore tecnico della nazionale brasiliana.